Salve ragazzi e benvenuti nella mia recensione dell'iPhone 5 L'iPhone 5 è il top di gamma per quanto riguarda Apple ed è disponibile in tre fasce di memoria 16GB a partire da 729€, 32GB a partire da 839€ e 64GB a partire da 959€ Per non annoiarvi troppo suddividerò il video in più categorie in modo tale che se non siete interessati alla recensione completa ma desiderate approfondire solo alcune cose potete tranquillamente farlo cliccando sul relativo titolo Dentro alla scatola troviamo il telefono privo di SIM ricoperto con una pellicola protettiva che lo ricopre sia davanti che dietro A seguire il libretto di istruzioni e di benvenuto, due adesivi Apple e le normative Il tutto racchiuso in un astuccio contenente anche la spilletta, indispensabile per aprire il vano SIM posto in un lato del terminale In fondo vi è il caricabatterie, il nuovo cavo Lightning e le innovative cuffie EarPods Apple è riuscita a comporre questo telefono con una combinazione di materiali davvero perfetta Da un lato rendono l'iPhone robusto e resistente, mentre dall'altra sono anche comodi e piacevoli al tatto La parte centrale del retro del dispositivo è realizzata in alluminio serie 6000 anodizzato che tra le altre cose è quello usato anche per il retro dei portatili Apple mentre il bordo superiore e quello inferiore sono realizzati in materiali diversi in base alla colorazione scelta Per il modello nero è stato usato il vetro pigmentato, mentre nel modello bianco è stata utilizzata vetro ceramica Finalmente Apple ha deciso di aumentare le dimensioni sia del terminale stesso sia del display Questo nuovo iPhone è di 123,8 mm per lunghezza e 58,6 mm per larghezza con uno spessore di 7,6 mm e un peso di 112 grammi Del processore non si sa quasi nulla Si sa solo che Apple ha integrato nell'iPhone 5 un processore dual core a 1,2 GHz a 6 Il processore è basato su un core ARM versione 7 sviluppato interamente da Apple chiamato Swift La GPU ha una frequenza di funzionamento di 266 MHz Come ho già detto, l'iPhone 5 è venduto in tre fasce di memoria non espandibili 16 GB, 32 GB e 64 GB Dopo aver creato un ID Apple, se dovessimo decidere di attivare anche i servizi iCloud ci verranno messi a disposizione 5 GB online espandibili a pagamento e sfruttabili per backup o sincronizzazione di vari documenti tra più dispositivi Apple configurati con lo stesso ID Apple Per quanto riguarda invece la RAM, l'iPhone 5 godia di ben 1 GB ovviamente non espandibile Nella parte frontale dell'iPhone 5 troviamo la videocamera FaceTime sensori di prossimità, microfono di chiamata e il tasto Home Nella parte posteriore vi è la fotocamera iSight, il microfono di input e flash LED Sul lato in alto troviamo il pulsante Power In quello sinistro il tasto per la vibrazione e i due tasti per la regolazione del volume Nel lato in basso abbiamo il nuovo connettore Lightning, il microfono di output e jack da 3,5 mm per l'inserimento delle cuffie e il lato destro è completamente pulito La prova è molto semplice Ho eseguito una breve registrazione con l'applicazione in memo vocale del mio iPhone e la riporterò qui, tale e quale, così com'è senza ritoccarla con programmi di editing Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questa prova audio per testare appunto il microfono di input dell'iPhone 5 Caricherò questo file mp3 nella mia video recensione dell'iPhone 5 senza editarlo, senza modificarlo, lo caricherò così com'è in modo tale che possiate rendervi conto della qualità di questo microfono Per eseguire questo test della cassa dell'iPhone 5 ho semplicemente messo in riproduzione sul telefono una musica senza diritti di copyright in modo che voi possiate giudicare nella qualità dell'audio Benissimo, per eseguire il test di velocità copieremo un file di prova ricordo di 729,1 MB prima su un iPhone 5, quindi con il connettore Lightning e poi su un iPod Touch 4, quindi con il vecchio connettore Dock a 30 pin Iniziamo con l'iPhone 5 Per copiarlo ci serviremo di un programma iPhone Box con cui potremo copiarlo molto più velocemente in questo caso io lo copierò in var mobile e copiamo il file Via! Perfetto, ha finito la copia Proviamo ora con il mio iPod Touch che ricordo sfrutta un cavo a 30 pin Via! 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 I test sono conclusi. L'iPhone 5 ha un display retina multitouch di 4 pollici con una risoluzione di 1136x640 pixel a 326 ppi. L'iPhone 5 è dotato di due fotocamere, iSight che è quella posteriore e FaceTime che è quella anteriore. La fotocamera iSight è di 8 megapixel, scatta foto e fa video a 1080p, quindi in full HD, mentre quella FaceTime è di 1,2 megapixel, scatta foto a 720p, quindi in HD. Da iOS 6 è stata introdotta la funzione panoramica che permette di scattare una foto a 360 gradi muovendo l'iPhone. Come altre opzioni abbiamo l'HDR e la possibilità di bloccare il focus tenendo il dito premuto sul display. Come altre opzioni abbiamo l'HDR. Bene ragazzi, questo è un video girato con il mio iPhone 5, cosa molto carina. Abbiamo la possibilità di scattare foto mentre facciamo il video. In questo momento sto scattando delle foto, ve le metterò in sovrimpressione, appunto le sto scattando mentre sto facendo un video. Proviamo il Palm Veloce, come vedete non ha problemi. E devo dire che i video sono davvero molto molto buoni. L'iPhone 5 supporta i 4 tipi di reti wifi A, B, G e L. Inoltre sono supportate tutte le reti mobili, incluso il 3G e il 4G, che qui in Italia sarebbe l'LTE. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. L'iPhone 5 è dotato di una batteria ricaricabile agli ioni di litio integrata, ovviamente ricaricabile via computer o via alimentatore. Inoltre, questi sono i dati di autonomia comunicati da Apple. Autonomia in conversazione fino a 8 ore su 3G, autonomia in stand-by fino a 225 ore, utilizzo di internet fino a 8 ore su 3G, fino a 8 ore su LTE fino a 10 ore su Wi-Fi, riproduzione video fino a 10 ore, riproduzione audio fino a 40 ore. Apple ha fatto una scelta molto intelligente. Diminuendo la lunghezza del connettore, infatti, ha lasciato molto più spazio alle casse, aumentandone di molto la qualità. Ciao Siri Ciao Pubblica un tweet Ok, cosa vuoi dire? Sto provando Siri sulla mia recensione dell'iPhone 5 Ho aggiornato il tuo tweet Vuoi inviarlo? Invia Fatto Aggiorna il mio stato di Facebook Cosa vuoi dire? Sto provando Siri nella mia recensione dell'iPhone 5 Ho aggiornato il tuo stato su Facebook Vuoi pubblicarlo? Pubblica Ottimo, l'ho pubblicato Domani Ricordami di fare un video Ecco il promemoria per domani alle 9 Vuoi salvarlo? Conferma Ottimo, te lo ricorderò Domani devo andare a scuola, quindi svegliami alle 8 La sveglia è impostata per le 8 A che posto è il Milan nella classifica di serie A? Ecco l'elenco giocatori della squadra Agile Milan Come ha chiuso Apple? Alle 18 e 14 Il mercato non è ancora chiuso Che tempo fa? Ecco le previsioni del tempo tra oggi e questo lunedì Che tempo fa New York? Ecco che tempo fa New York, Stati Uniti tra oggi e questo lunedì Mando un messaggio a... Ottimo, posso inviare un messaggio di testo a... Cosa vuoi scrivere? Ciao Ho aggiornato il messaggio Desideri inviarlo adesso? Annulla D'accordo, non lo invio Chiama Quale numero telefonico di... Cellulare, iPhone, telefono dell'ufficio o telefono di casa? Cellulare Chiamo... Al numero di cellulare Ciao Questa è una prova per la dettatura vocale di Siri in italiano Punto esclamativo Bene, e dopo questa recensione non potevano mancare assolutamente giusto 3 minuti delle mie opinioni personali su questo iPhone 5 Beh allora, prima di cominciare vi dico non fermatevi a quello che viene scritto sui blog perché io ho letto molti siti in cui l'iPhone 5 viene dipinto come un qualcosa che semplicemente non merita il prezzo che vale e che non sa fare niente Io ho letto talmente tanto queste cose che mi hanno un attimo, cioè ero un po' scettico a comprare questo iPhone 5 mentre poi l'ho acquistato e mi sono reso conto che tutte queste voci erano assolutamente false Vi dico giusto i punti più importanti, le novità e le features come si direbbe in inglese più importanti di questo iPhone e che mi hanno colpito Sicuramente mi piace moltissimo Siri, l'avete visto nella prova, fulmineo e molto comodo Le foto e i video, anche se non sembra, vengono girate davvero in maniera incredibile E poi soprattutto la navigazione in internet è davvero un qualcosa di eccezionale Questo iPhone 5, soprattutto con Safari, è davvero fulmineo Prima vi ho fatto vedere il test con speedtest.net, ora è una prova più pratica Andiamo su YouTube, sul mio canale, come vedete è davvero fulmineo, una cosa incredibile Le uniche due cose che non mi piacciono, devo essere sincero, di iPhone 5 Il discorso batteria, devo ammettere che è un po' troppo spartana Devo dire però che io sicuramente ho Whatsapp che consuma tantissimo Sicuramente se non avessi Whatsapp ho anche fatto delle prove e durerebbe di più Comunque per una persona che ne fa un uso di lavoro, secondo me riesce tranquillamente ad arrivare a fine giornata Per una persona che ha molti client di messaggistiche e che soprattutto va spesso in 3G Ecco, la situazione è un po' più problematica E poi un'altra cosa che non mi piace di iPhone, ma questo di iOS in generale È la chiusura del sistema, ma questo basta fare il jailbreak, come vedete E poi tutti questi limiti vengono spezzati Come vedete ora, io ho voluto tenere apposta Cydia sul mio dispositivo Perché? Perché come tutti sanno comunque il jailbreak rallenta comunque un po' E diminuisce le protezioni del dispositivo Quindi mi è venuto in mente di usare proprio Cydia per farvi capire la potenza di questo iPhone 5 Perché pur col jailbreak riesce a mantenere una fluidità e una velocità incredibile Quindi pensate senza jailbreak e aggiornato all'ultimo firmware Devo dire che la cosa che mi piace di più di iPhone 5 è la risoluzione del display Fotocamera, Siri e potenza Quindi per potenza e fluidità Fluidità e velocità Queste cose davvero non mi faranno mai separare da iPhone e Apple Nel prossimo passo vedremo uno sguardo alla concorrenza Comunque il mio consiglio è assolutamente di acquistare iPhone 5 Chiaramente se voi progettate di acquistarlo ma siete ancora un po' scettici Il mio consiglio è davvero quello di acquistarlo perché è davvero un ottimo terminale Soprattutto cosa molto molto comoda FaceTime che è incluso in iOS Che permette di chiamare gratis e mandare messaggi gratis A tutte le altre persone che hanno un iPhone, un iPod Touch o un iPad Quindi il mio consiglio è quello di acquistarlo E ricordo che per il modello da 16 GB la cifra minima è di 729 euro Questa era la mia recensione dell'iPhone 5 Ma se volete vedere anche il top di gamma di Samsung Per poi decidere quale dei due ottimi telefoni si addice di più alle vostre esigenze Cliccate sullo spezzone di video qui Per andare a guardare una video preview di quella che è il Galaxy S4 Cliccate sullo spezzone di video